Una vita migliore in un paese che ha una grandissima e antichissima tradizione di cultura e di mercato che si è espansa e è genuigliata con la presenza di un fiorire di un mercato libero e attiva produzione e distribuzione delle opere dell'altro ingegno Noi rendiamo le talenti individuali, quello dei singoli cittadini, quello della presenza e noi crediamo nella meritocratia perché questo è un talento che è un talento della tradizione e quindi non lasciamo stagliare le altre, le cose, le cose ma continuiamo con la nostra forza, con la nostra passione da studiare le migliori i tempi, i tempi del nostro futuro E allora Che cazzo succede? Gli hanno sparato Forza ragazzi Si seguitemi, seguitemi, seguitemi Seguitevi, seguitemi Sì, amici Via, via, via No, 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 no. Mettete l'area in sicurezza e blagate tutte le uscite. Forza, via, 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 via! Forza, via, via, via!